I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani hanno eseguito l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di Vito D'Angelo, 71 anni, accusato di associazione di tipo mafioso. D'Angelo si trovava ai domiciliari dal 13 agosto ma è stato portato in carcere. Il presunto boss di Favignane era stato arrestato lo scorso 5 marzo durante l'operazione antimafia Scrigno, nel corso della quale in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica DDA sono state tratte in arresto 26 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione, danneggiamento seguito da incendio e altro, tutti reati aggravati al metodo mafioso. In questo contesto D'Angelo era ritenuto il vertice di un'articolazione operativa di Cosa Nossa sull'isola di Favignana, documentata per la prima volta proprio nel corso delle indagini che hanno condotto all'operazione Scrigno. Dopo alcuni mesi di detenzione al carcere Pagliarelli di Palermo, D'Angelo era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per le precarie condizioni di salute. I militari lo hanno tenuto sotto osservazione e hanno constatato che l'uomo ha più volte violato le prescrizioni relative di vieti di comunicazioni con persone non autorizzate, incontrando più volte soggetti che a loro volta avevano già avuto un rilevante ruolo nella pregressa attività investigativa, interfacciandosi con i coindagati Francesco Virga e Francesco Peralta, entrambi attualmente sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere accusati di associazione mafiosa. In base ai controlli alle indagini, D'Angelo dai domiciliari continuava ad essere un vero e proprio punto di riferimento della criminalità organizzata trapanese.